Buongiorno a tutti, buon martedì 6 febbraio e siamo sempre un po' più in là, con una partita in meno da giocare, con un tè caldo più famoso di youtube in arrivo, mi raccomando continuate ad iscrivervi al canale, spammate il link del canale su tutti i vostri gruppi, dobbiamo arrivare ai 50.000, poi vi ho detto, grande cena di gruppo, però come ha ammonito Beppe Marotta ieri sera, calma, umiltà, piedi per terra, perché, come ha detto lui, non si è vinto ancora niente, chiaramente a parte quella prestigiosa Supercoppa Nuovo Formato, che è un altro trofeo, che è entrato nella bacheca di Via della Liberazione, il suo riferimento naturalmente era a un campionato che è ancora molto lungo e ricco di difficoltà e ostacoli, basta vedere comunque anche il prossimo calendario, la prossima giornata l'Inter andrà in anticipo alle 18 a Roma, all'Olimpico, la Juventus gioca addirittura lunedì a Udine, questo dunque per sottolineare le situazioni differenti del campionato, anzi no, gioca in casa, non gioca a Udine, Allianz Stadium, mi stavo sbagliando, quindi ancora più facile in casa, anche se Vlaovic si è fermato, chiesa una contusione al piede, sono entrambi in dubbio, Vlaovic per un sovraccarico all'adduttore, lunghissima ancora la corsa tappe, tanti adesso, normale, complimenti, giudizi, l'Inter come quella del triplete, numeri pazzeschi, più 41 di differenza reti dopo 22 giornate, è qualcosa che rasenta la perfezione, con un 2024 veramente devastante, si è cominciato con la vittoria difficile, con quel 2-1 al Verona, ma con il gol, come abbiamo visto, viziato da una spinta su Arnautovic, il gol del momentaneo pareggio, poi la rete di Frattesi nel recupero, per continuare col 5-1 al Monza, poi le sfide di Supercoppa vinte 3-0 contro la Lazio, 1-0 contro il Napoli, 1-0 a Firenze, 1-0 con la Juve, un qualcosa di veramente rasente alla perfezione, ma è tutto ancora molto lungo e da giocare, come ha detto Cialanoglu, bisogna ancora finire il lavoro, la memoria va naturalmente allo scudetto perso due anni fa, a quella poi serie nera di 7 punti in 7 partite che regalò lo scudetto al Milan, più il recupero con il Bologna perso, che avrebbe in qualche modo comunque portato l'Inter vincendo allo scudetto, e così non fu, quindi ricordare bene tutto quello che è successo, però è indubbio che ci sia un Inter dominante, e come abbiamo titolato, Inzaghi League, altro che Marotta League, perché come ha riconosciuto anche Marotta, è cresciuto tantissimo Simone Inzaghi, e nonostante la sua giovane età va per i 48 ad aprile, si sta confermando anche a livello internazionale, non è un caso che a Liverpool, pensino anche a lui per il dopo-klop, per quanto sta riuscendo a costruire con l'Inter, e facendo vedere quel calcio, vi ricordate, è il mio primo soprannome, perché partì in una maniera incredibile anche alla sua prima stagione con l'Inter, era Simone il Bello, adesso capite che quel soprannome non era così, così poi campato per aria, per come sta facendo crescere, giocare, quasi a memoria, l'ha messo anche un tifoso doc come Marco Tronchetti Provera, sponsor da più di vent'anni dell'Inter, con Pirelli, prima di maglia, adesso comunque anche sempre a sostegno della società, questo gioco tutto di prima, con un Cialanoglu, che prende complimenti elevatosi a migliore, tra i migliori centrogambisti al mondo, per come interpreta le due fasi, sia quella difensiva che quella offensiva, con quelle sue aperture di 50 metri d'esterno, che è solo un piacere per gli occhi vedere come quando ha mandato praticamente in area Di Marco saltando tutta la difesa della Juventus con un qualcosa di magico, e capite anche quando vi dicevo che secondo me se ci fosse stato Mkhitaryan e Cialanoglu in cabina di regia a Istanbul, al posto di Brozovic, con tutto rispetto per Brozovic, ma che è un'altra cosa e lo potete vedere quest'anno, Cialanoglu ormai era il regista della squadra, riportato a fare la mezza punta, cominciò a pestarsi i piedi e proprio a Istanbul giocava una delle sue peggiori partite anonima, perché non si ritrovava più in campo a fare la mezzala con movimenti completamente differenti, anche se era cominciata così la sua avventura in nera azzurro, poi l'intuizione di Nzaghi, dopo l'infortunio di Brozovic, a mettere Ciala in quella posizione, a costruirlo a regista 2.0, il gol col Barcellona subito a dimostrare la sua importanza, utilità, a cambiare la stagione che più volte ha rischiato di compromettersi, sia all'inizio con quel brutto, brutto avvio di stagione, con cinque sconfitte, rischiando anche la panchina di Nzaghi, e lo stesso per qualcuno il 15 aprile scorso, dopo la sconfitta interna con il Monza doveva essere cambiato, e capite invece che lavoro è stato fatto, e la crescita di Simone Nzaghi che ha conteso a Spalletti e Guardiola anche il titolo di miglior allenatore dell'anno, che ha messo in difficoltà, in grandi difficoltà, Guardiola nella finale di Champions, meritandosi anche molto di più di una sconfitta di Cortomuso per 1-0, con tutti quegli errori, con la parata di Lukaku su Di Marco, la traversa, Lautaro a tu per tu, Lukaku che a botta sicura prende il polpaccio di Ederson, avrebbe veramente anche Nzaghi meritato almeno i supplementari per giocarsela fino in fondo, contro un Manchester City che, ve lo dice chi era proprio lì a un passo, aveva una paura incredibile di quest'Inter, e speriamo che continui anche a farlo in Champions League, adesso ormai tra due settimane esatte arriverà la sfida con l'Atletico Madrid, altre risorse, altre energie che si porterà via, quindi bisogna fare il meglio, come ha detto anche Marotta, saranno difficili soprattutto le sfide sui campi delle cosiddette provinciali, anche se poi ha sbagliato dicendo che tra due settimane l'Inter andrà a Salerno, dove si è già giocato e vinto con quei quattro gol di Lautaro Martinez incredibili, sarà in casa mentre poi a Lecce sarà anche lì una bella sfida difficile per quanto riguarda soprattutto queste squadre che avranno bisogno di punti per le loro classifiche, e di fronte alla capolista cercheranno tutti sempre di dare qualcosa in più, però un Inzaghi che secondo qualcuno ancora in estate non andava bene, invece sta dimostrando qualcosa di incredibile, a parte i numeri, il gioco, ma anche come è cresciuto dal punto di vista della comunicazione, non ha accettato provocazioni, è andato avanti, ha saltato bene le trappole, e sta crescendo un po' in ogni anche mancanza che gli si sottolineava sempre con poco rispetto fino a poco tempo fa, Limone, Spiazze, lo si prendeva quasi sempre in giro e lo capite adesso anche da come è cambiata la narrazione intorno a lui, adesso è diventato il demone di Piacenza, che mette un po' paura a tutti e che non viene più preso in giro per qualche suo intercalare, e quella sua frase, io porto trofei e faccio migliorare i bilanci, che sembrava una cosa presuntuosa, è effettivamente quello che sta facendo, pensate a quei poveretti degli scantinati che sostenevano che facesse diminuire, il valore dei giocatori, e guardate che cosa ha costruito Simone Inzaghi da Cialanoglu, regista, a comunque, ad aver voluto a tutti i costi mettendosi di traverso per la prima volta, lui che è sempre stato un aziendalista l'estate scorsa, per portare Francesco Acerbi a Milano, o ancora insistere, e tutti lo criticavano quest'estate, perché voleva Pavard, e spendere 30 milioni per Pavard, e non andare su un attaccante più forte, perché Turam, per molti, non era a livello, non era un giocatore da Inter, non era un attaccante con gol, e quant'altro, e invece, e invece, guardate cosa sta creando, Turam è diventato un top a livello mondiale, non parliamo di Lautaro Martinez, della sua incredibile stagione, solo la gazzetta possono dar 5 dopo la partita dell'altra sera, in cui è stato anche Lautaro, una chiave per la vittoria, per non lasciare spazio a Locatelli, per andare a portarsi via i difensori, a creare invece lo spazio per gli inserimenti di Turam, come in occasione del gol, poi completato da Gatti, ma merito chiaramente dell'inserimento di Turam, ma poi la crescita di Di Marco, la seconda giovinezza di Darmian, quante ne possiamo elencare, Mkhitaryan che non lo voleva nessuno, che l'Inter ha preso a costo zero, dove sono quelli del mercato col piattino, dove sono adesso, mi piacerebbe che chiedessero tutti scusa all'Inter, alla sua proprietà, alla sua dirigenza, a Simoninzaghi per come ci hanno sfracassato per mesi e mesi, per anni, per le scelte della società e guardate adesso che cosa abbiamo davanti agli occhi un Inter che non ha ancora vinto lo scudetto, lo sottolineiamo e lo sappiamo che sarà ancora difficilissimo, ma che è un piacere vedere che ha dominato la Juve senza farle fare un tiro in porta e l'ultima vittoria con la Juve a San Siro guarda un po' a quando risale in campionato all'anno dello scudetto Varela Vidal che diede là poi alla rimonta sul Milan e alla vittoria del diciannovesimo titolo, guardate un po', però attenzione non solo alle avversarie perché non so se avete sentito e visto anche il VAR e le comunicazioni della partita di Firenze mi hanno lasciato abbastanza così abbastanza interdetto per lo scontro Sommer Nzola con l'arbitro Aureliano che in campo vede giustamente un Sommer che tocca la palla e non vuole dare rigore poi viene praticamente convinto dal VAR dove vedono e si vede benissimo dalle immagini lo vedono benissimo che che tocca prima il pallone Sommer con il pugno ma viene detto che la sfioricchia non è che la prende come cosa vuol dire la sfioricchia non è che la prende la sfioricchia arrivano contestualmente sul pallone praticamente contemporaneamente ma non è vero perché ci arriva prima Sommer e tocca il pallone con il pugno è molto contestuale arrivano contestualmente sul pallone cioè convincono alla fine anche Aureliano che l'aveva vista giusta e poi dice ma non prende il pallone mi sembrava che lo prendesse la risposta del VAR è praticamente no lo sfioricchia cioè capite anche con tanto di replay che si vede benissimo dalle immagini che c'è il tocco prima di Sommer viene derubricato a sfioricchia che poi bisogna capire cosa vuol dire sfioricchia o lo prende o non lo prende se lo prende non è calcio di rigore perché interviene prima sul pallone allora ditemi anche quell'intervento in area su Turam di Danilo anche lì prima viene preso il pallone però poi viene abbattuto Turam allora anche lì lo sfioricchia o non lo sfioricchia cos'è questo sfioricchia ma la cosa poi che dà più da pensare che i commenti sono a legittimare questo errore nessuno dal designatore ai suoi collaboratori dice che è stato un errore no anzi viene difesa questa decisione sbagliata ai danni dell'Inter quando invece episodio contro il Verona o a Genova era chiaramente un errore conclamato a favore dell'Inter capite anche qua la differenza la sfioricchia comunque ricordiamoci questo verbo e questa interpretazione per il futuro un articolo un focus dedicato a Steven Zhang sulla gazzetta che andiamo a leggere si è risentito sui social andiamo a riprenderlo anticipando un attimo la nostra rassegna stampa però ci dà anche un aggiornamento societario perché ormai siamo agli sgoccioli per qualsiasi tipo di operazione che si possa fare siamo già al 6 di febbraio e dunque presto si saprà qualcosa anche se voglio dire l'importante è quello che vediamo in campo poi una soluzione in qualche modo si troverà Steven cuore inter esulta dalla cina ma non è finita ora il prestito bis messaggio allo staff è un post per i tifosi il tempo per rifinanziare adesso stringe poco prima delle 4.30 ora di Nanchino il notturno si venzanga è scattato come una molla come faceva un tempo a San Siro mentre a Milano Gatti sbagliava porta in Cina il presidente interista festeggiava l'ennesimo schiaffo alla signora tra alti e bassi tra momenti iniziali di grandeur e successive difficoltà economiche il numero 1 Nerazzurro ha vissuto da sempre la presidenza del club nel segno dell'eterna rivalità con la Juventus dopo aver preso la rincorsa ha buttato per la prima volta giù dal trono la signora cannibale di Scudetti stavolta i suoi nerazzurri hanno soffocato sul nascere il tentativo di risalita bianconera il ruolo di squadra leader in Italia strappato dall'interversione su Ning negli ultimi anni non è stato messo in discussione domenica al Meazza anzi mai come stavolta Zang si è sentito così vicino al secondo scudetto della vita dopo il primo vinto con Antonio Vonte in panchina nella stagione 20-21 per questo ha esultato via social con una Instagram story piuttosto iconica a sfondo nero e stelline più la scritta italiana Amala che piace tanto ai tifosi ha pure commentato un post di Akan Ciaranoglu dominatore a San Siro usando le stesse parole prudenti scelte dal Turco non abbiamo ancora finito il titolo perso due stagioni fa contro il Milan affolla evidentemente ancora i pensieri presidenziali nessun nuovo calo di tensione è ammesso lo stesso Zang lo ha ripetuto nel giro di telefonate e messaggi effettuati prima di riuscire a dormire ne ha parlato con i più alti dirigenti con l'allenatore e pure con qualche giocatore ogni complimento per la spallata Scudetto è stato accompagnato da un avvertimento per il resto della stagione il lavoro va completato a maggio la seconda stella come mission aziendale italiana mentre il grosso delle sue giornate cinesi sono impegnati nel tentativo di rifinanziare il prestito in scadenza guardare la scuola del cuore in piena notte non è certo una novità il rampollo di Suning si arrangia così da quando ha lasciato l'Italia per tornare a casa inizio estate l'ultima partita vista dal vivo resta l'amichevole Inter Paris Saint Germain giocata a Tokyo l'1 agosto 2003 tra l'altro notizia importante sembra che il preferito dal Paris Saint Germain per il dopo Mbappé diretto a Madrid e vedremo se anche qui abbiamo fatto uno scoop totale planetario sia Osimène che andrebbe a chiudere un'altra un'altra possibile diciamo squadra che potrebbe convincere Lautaro Martinez quindi un'ulteriore notizia positiva quella nonostante una certa nostalgia e gli inviti ricevuti Zhang non ha ancora messo in agenda il ritorno in Italia pur in Cina si è visto pochino se non fosse per qualche uscita pubblica come quella per un evento Moncler partner tra l'altro pure della sua Inter Steven sarà in Italia solo dopo che avrà risolto definitivamente la partita societaria più stringente dello scudetto stesso il 20 maggio scade infatti il termine per la restituzione di oltre 350 milioni ma ragazzi mettiamo 383 ma è così difficile fare il calcolo preciso 275 più di interessi prestati dal fondo americano OCTRI ma a stretto giro si capirà se il rifinanziamento del prestito l'operazione su cui Steven sta andando avanti con decisione andrà a buon fine non ci sono dubbi che quella sia l'opzione preferita almeno in teoria visto che il miliardo 200 milioni di valutazione minima del club hanno frenato finora eventuali compratori ma è altrettanto vero che i margini per andare ad ama non sono così grandi il tempo stringe per mettere in piedi dal punto di vista giuridico il rifinanziamento difficile andare oltre la fine di questo mese o poco più nel mentre le antenne del presidente sono drizzate verso gli Stati Uniti madre patria sia di OCTRI sia degli altri fondi che hanno mostrato interesse sempre in contatto con i due advisor scelti Goldman Sachs e Rain Group antenne drizzate verso gli Stati Uniti insomma la seconda stella vuole appuntarla al petto nero-azzurro lui Steven e nessun altro anzi nella progettualità con i suoi collaboratori a Milano il presidente continua a ragionare su un periodo medio e non corto del resto star nella storia del club deve essere piacevole con la Supercoppa appena vinta sesto trofeo della sua gestione si è portato a un solo titolo da Angelo Moratti padre di Massimo e della grande Inter secondo nella classifica dei presidenti nero-azzurri più vincenti con lo scudetto a maggio sarebbe a gancio poi con una nuova liquidità perché non pensare di allargare ancora la bacheca sempre che vada in quella direzione lì dunque aspettiamo il tempo stringe e lo vedremo un'altra dichiarazione molto importante su cui vorrei porre l'accento è quella che Marotta ha spiegato come l'Inter sia tornata come quella del triplete ma anche come prestigio come appeal verso tanti giocatori ha detto che molti molti vogliono venire all'Inter si propongono e preferiscono l'Inter ad altre soluzioni anche magari più remunerative o più prestigiose come può essere una Premier League in questo momento proprio per quello che si sta costruendo per quello che fa vedere anche in campo l'Inter di Inzaghi l'abbiamo vista in estate Thuram era inseguito da Milan Paris Saint-Germain e alla fine ha scelto l'Inter Sommer ha voluto lasciare come Pavard un Bayern Monaco potenza mondiale per venire a Milano per venire all'Inter per provare a giocare nella squadra vice campione d'Europa e così ha scelto anche Zilinski che ha rifiutato il rinnovo col Napoli il blitz della Juve i milioni della Saudi League per scegliere l'Inter attendiamo adesso visite mediche firme anche per lui come per Taremi impegnato nelle semifinali di Coppa d'Asia e poi vedremo anche l'iraniano andare a completare un roster sempre più di alto livello sempre anche più numericamente importante per una stagione quella prossima che vedrà la nuova Champions il mondiale per club si giocherà fino a luglio quindi con la necessità anche di più elementi di alzare ancora di più la sticella ma quello che abbiamo sotto l'occhio di tutti è una crescita numerica di prestigio di brand e con tanti saluti agli amici del piattino questo lo possiamo dire e lo ribadiamo assolutamente per sottolineare dare i meriti a una proprietà a una dirigenza a uno staff tecnico a una squadra che sta facendo tantissimo però non deve perdere l'umiltà e di vista l'obiettivo grosso che è quello della seconda stella provando a fare il meglio possibile in champions si può fare con una rosa del genere in cui anche le alternative stanno crescendo si può fare si deve fare poi è chiaro che nel calcio come nello sport vince sempre solo uno e quello è andiamo a leggere i vostri messaggi mi raccomando mettete like continuate a iscrivervi al canale e prepariamoci stasera torna anche la live all'aperitivo ieri giornata di riposo meritato anche per noi andiamo a leggere mi fa piacere che anche voi siete stati d'accordo anche con il mio disappunto a dare 5 a Di Marco domenica sera Ikirok vi dirò Arnautovic la calcia importa Shesny fa un grande intervento per me è più prodezza del portiere che l'errore dell'attaccante sì però bisognava chiudere la partita bisognava segnare per fortuna non è stato un errore decisivo mi fa piacere anche i 49 like ricevuti da questo messaggio un grazie a te Marco un grazie alla grande Inter Tobia Inzaghi e a tutta la società per quello che sta facendo 23 like i voti della gazzetta lasciano il tempo che trova siamo stati grandi Giordano 16 like grande Inzaghi a evitare le polemiche grande uomo come abbiamo detto cresciuto anche dal punto di vista della comunicazione buongiorno Marco a tutti gli amici interisti oggi il risveglio è favoloso dobbiamo continuare così senza mollare di un centimetro stizzagatto che bel giorno Paolo Nerazzurro ricordando il grande avvocato Peppino Brisco non c'è gioia più bella che vincere un derby con un autogol Germanico uno step importante è stato fatto ora non molliamo perché è stato fatto qualcosa ma ancora non si è fatto niente a parte la Supercoppa quella sì che c'è in bacheca si mangiano le mani per decetelare se vedono il nostro ciala cosa fanno allora dice e direi lasciate andare lasciate andare via a zero adesso quanto vale per la serie che perdono di valore i giocatori con questa proprietà con questo allenatore varrà minimo minimo 70-80 milioni preso a zero dai non è male che dire grazie Marilena a questi meravigliosi giocatori grazie a Inzaghi per farci vivere serate come quella dell'altra sera che ci regalano emozioni gioia e sofferenza nella speranza di un regalo grande che tutti attendiamo ma non diciamolo Liviana buongiorno community vittoria meritata grandissimi Gianluca lezione di calcio poteva essere anche più largo il risultato ma va bene così avanti sempre primi mister romano grazie per il tuo prezioso lavoro per quello che riguarda la stampa no comment dobbiamo lottare contro tutti e tutto grande partita dell'inter peccato non aver vinto 3-0 avanti così 80 giale quanto avrei goduto se Inzaghi avesse detto le guardie scappano e i ladri continuano a inseguire ma alziamo il livello non perdiamoci lalu tra i nostri nuovi abbonati risultato che non rispecchia la partita difficoltà nel chiuderla e rimanere sempre sul chi va là ma al di là di tutto abbiamo dimostrato la nostra forza Davide Frucci adesso voglio sentire quelli che dicevano che preferiscono gatti a pavar Rosa ci saluta e vi saluta buongiorno è un buongiorno totale Chef Joe Elio calma i piedi per terra Maurizio siamo fortissimi c'è poco da dire parlano i numeri e le nostre vittorie Turantodo Martin vergognosi i certi voti sembra che la Juve abbia giocato alla pari con l'Inter Pino Prof miau 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 proprio lui e mette un po' di di ironia bravi tutti il sogno inconfessato era quello di una vittoria larga ma va bene uguale buona settimana da capolista Ivan Joseph Mega abbiamo vinto una partita importantissima tutti strepitosi Irving li abbiamo annullati Anthony vamos però calma e continuiamo a lavorare e questa fuga sempre concentrati Paoloni tre punti vitali contro la Juve coniati al platino era allo stadio partita stratosferica il turco e il francese monumentali giocate bellissime Luigi Fantauzzo quasi sembra che hanno vinto quelli di Torino secondo certi giornali meglio stare qui sul canale grossa prestazione con Soloneo di averla tenuta aperta per non aver concretizzato Giuliano ma va bene così e direi che è un po' il commento che si ripete sempre piedi per terra ringraziamo tutti gli altri che hanno scritto Italo poi Luca Cleri ci ricordiamo agli abbonati tipo Lentone Salentino Larita e tutti gli altri impegnatevi per ricevere più like in modo da essere letti per gli abbonati scrivetemi per avere il nuovo link del gruppo dunque pronti un minimo di rassegna stampa per concludere la nostra pagina quotidiana in attesa della live di oggi andiamo alla gazzetta in prima pagina c'è Cialanoglu illumina l'Inter l'uomo dal lancio d'oro il turco nel suo ruolo è al top in Europa i suoi colpi li studia al video vale 60 milioni e Zanga scrive dalla Cina amala la Juve però ci crede ancora il maestro turco con l'esterno omaggia Verón Ambrosini dice magico come Pirlo è al top al mondo poi su Zanga abbiamo detto punti gol difesa così Zaghi riscrive la storia un Inter da record Tronchetti giochiamo a memoria Ciala Super differenza reti al top dal 60 61 per Sommer anche 14 clean sheet più 41 numeri incredibili diamo un'occhiata anche al Corriere dello Sport anche qui in copertina Cialanoglu top e flop il flop è Vlaovic Cialanoglu cambia la corsa a scudetto poi il PSG ha deciso su Osimen Ciala lo sai perché con l'inizio anche del coro dedicato a lui e il toro più indietro blocca Locati